Buonasera amiche e amici dell'atletica e del podismo. La sedicesima edizione della Corri Trieste di 10 km scattata domenica dalla Scala Reale davanti a Piazza Unità d'Italia è stata vinta dal keniano Chimeli Chisorio della Virtus Lucca in 29 minuti e 26. Seconda posizione per Yassin Rashid, atletica Noceto in 29.33 e terza per Jan Battiste Simucheca, orecchiella Garfagnana in 32.10. Tra le donne vittoria di Jessica Doria, generali runner in 39.27 seguita da Giulia Tardivello, Cus Udine 40.34 e da Margherita Spadaro, Athletic Club in 40.55. La gara è stata organizzata dal Promoran, si è corsa in circuito di 5 km ripetuto due volte e gli atleti classificati sono stati 172. La scorsa settimana c'è stata l'apertura provinciale dell'attività su pista al Grecia di Trieste valida quale prima prova del trofeo 5 cerchi. Michele Brunetti della Trieste atletica vince i 150 metri assoluti con 16 secondi e 7 e manuale che guaglia il record regionale allievi di Giovanni Barbone risalente a dieci anni fa. Con Sancin e Bertoc che hanno rinviato il debutto stagionale e con Paolo Messina, altro ostacolista accreditato alla prima uscita di 17 secondi netti, la Trieste atletica dispone di una staffetta allievi decisamente competitiva. Ed è ripresa questo weekend a pieno ritmo anche l'attività all'aperto in provincia di Udine e ad accendere le polveri è stata, ormai è un classico, la Libertas Mereto. Mentre a Spilimbergo la polisportiva Trivium ha organizzato l'atletica giovani per ragazzi cadetti e allievi. A Mereto di Tomba le immagini sono di Luca Snaidero, il sabato era dedicato alle categorie esordienti con gare promozionali per esordienti C, fanta atletica e al lancio del martello per cadetti e allievi. Sia maschili che femminili che hanno scatenato scintille di qualità mentre la domenica si è tenuta la prima prova del trofeo Luigi Modena per ragazzi e cadetti maschili e femminili con centinaia di giovani a riempire pista e pedane. I premi per le migliori prestazioni tecniche sono andati sia al maschile che al femminile ai martellisti Alessandro Feruglio dell'atletica Malignani Libertas, ultimo prodotto della scuola Mario Vecchiato. Ha incrementato di 7 centimetri il record personale di 61,80 consolidando la seconda piazza All Time, mentre Laura Lazzarato, 14enne sempre del Malignani Libertas, è letteralmente esplosa migliorandosi di più di 10 metri, da 31,80 a 42,43. Poi Feruglio ha anche piazzato un buon 14,25 metri di peso, mentre l'altro martellista cadetto Davide Vattolo si è confermato oltre i 55 metri, lanciando a 55,14. Martello a parte, le cose migliori si sono viste nei 150 metri piani con Simone Koren, Libertas Grions e Remanzacco, battuto dal Veneto di Roncade Loris Tonella, 17,49 a 17,99. E con Melissa Zanini, Malignani Libertas, che si è imposta a soli di due centesimi su Alice della Bianca, la Varianese, con 20,26 contro 20,28. Sempre nei cadetti Alberto Nonino, Malignani Libertas si ferma a 1,67 metri nell'alto, mentre il team di Dante Savornian schiera una buona 4%, Onsel, Bosa, Basalisco e Zarillo, che stoppa i cronometri a 47,36. La cosa migliore dei ragazzi è stato il 9,72 sui 60 ostacoli della zanese Andrea Moras. Ed ecco i vincitori e vincitrici. Ragazzi, lungo, Lorenzo De Martín, Trieste Trasporti, 4,57 metri, peso, Eric Tavano, Malignani Libertas, 9,68 metri, 4% Libertas Meretto, Damiani, Melchior, Fuligni, Del Forno Sinico, 1 minuto, 1 secondo e 20. Categoria ragazze 60 ostacoli Alice Beltramini, Libertas Grionser e Manzacco, 10 secondi e 39. Alto Anna Bantusso, Libertas Meretto, 1,41 metri, vortex Sara Marcuzzi, Libertas Maiano, 39,88 metri, 4% Malignani Libertas, Forte, Pividori, Battisacco e Vattolo, 57,91. Categoria cadetti, alto, Alberto Nonino, Malignani Libertas, 1,67 metri, peso, Alessandro Feruglio, Malignani Libertas, 14,25 metri, 150 metri, Loris Tonella, Nuova Atletica Roncade, 17,49, 4%, Malignani Libertas, Onsel, Bosa, Basalisco e Zarillo, 47,36. Categoria cadetti, lungo, Alice della Bianca, Lavarianese, 4,85 metri, disco, Deborah Bertoli, Libertas Meretto, 20,88, 150 metri, Melissa Zanini, Malignani Libertas, 20,26, 4%, Malignani Libertas, Trombetta, Battistoni, Gomboso e Zanini, 53,34. E ora parliamo della sesta edizione dell'ecomaratone del Collio Brda che ritorna domenica 22 aprile a Cormonx. Si correrà sulla distanza di 46,2 km l'ecomaratona, 24,5 km saranno il menu chilometrico per il trail, mentre nel pomeriggio di sabato 21 è in programma il mini trail di 8,3 km, valido come quarta prova di Coppa Friuli, Memorial Romano Berlasso e Coppa Gorizia. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta sabato alla cantina produttori vini di Cormonx, alla presenza di numerose autorità politiche e no, tra le quali il sindaco di Cormonx, Roberto Felcaro, il coordinatore delle città del vino, Tiziano Venturini, il direttore generale della cantina produttori di Cormonx, Andrea Russo, il referente provinciale della Coldiretti di Gorizia per campagna amica, Paolo Cappelli, e il comandante della stazione Carabinieri di Cormonx, Cappelletti. La compagine organizzativa della maratona delle città del vino, composta da Manglio e Nicoletta Balloc, Luigi Dentesano, Rino ed Elisa Nonino, con il supporto di Fabio Morassu, si pone obiettivi ambiziosi partendo dai numeri della scorsa edizione. Oltre 5.000 partecipanti spalmati tra non competitiva, mini trail, trail ed eco maratona, e 25 nazioni rappresentate. Il compito di introdurre gli interventi delle autorità è toccato a Luigi Dentesano, Deus ex machina della squadra organizzatrice. Il direttore generale della cantina produttori di Cormonx, lieto di ospitare la presentazione dell'evento nella sala consigliare della cantina, ha sottolineato l'importanza di valorizzare il marchio Cormonx, che dà risalto al territorio e alla cittadina collinare. Il presidente Malio Balloc, lamentando la scarsità di risorse regionali, si è soffermato sull'aspetto tecnico della manifestazione, che nei pochi anni di vita ha visto affermarsi atleti di livello internazionale, come Tadej Piuq, l'ungherese Joza Gabor, l'azzurro Ivan Kudin, le slovene Lucia Krčkok e Anna Kufar, e il bicampione mondiale di corsa in montagna Stefano Scaini. Il livello internazionale della competizione Cormonese è una delle componenti che caratterizzano questo evento di largo respiro, che offre un cadò di opportunità e conoscenze uniche. Le iscrizioni, pervenute in mattinata da Mosca e in precedenza da Chicago, Denver, Budapest, oltre che dall'India e dalla Francia, indicano che la macchina organizzativa funziona a pieno regime. Lo stesso sindaco Roberto Felcaro ha rimargato l'importanza di sviluppare questa manifestazione sportiva, già ben conosciuta in Italia, a livello europeo, perché il territorio offre molte opportunità utili per elaborare un progetto vincente. Parole di condivisione e piena disponibilità a collaborare in questo senso sono state pronunciate anche dal coordinatore della Città del Vino, Tiziano Venturini. E se i numeri, come già detto in precedenza, danno una dimensione credibile di un evento, sorprende quello degli oltre 200 volontari che saranno sparpagliati sul percorso e nelle zone sensibili dell'evento, al fianco dell'immancabile protezione civile. Una mobilitazione di un'intera comunità che, al di là dei promotori, mette assieme varie componenti e costituisce un'opportunità per tutti. Lo sport, dunque, come veicolo enogastronomico e culturale per valorizzare un territorio unico per qualità ed eccellenze. Cosa c'è di meglio per farlo apprezzare dal di dentro che una maratona che ne percorra strade e sentieri, che si inoltri in Slovenia alla ricerca di nuove frontiere, naturalmente da abbattere. Lo slogan, io corro senza confini, indica esattamente le finalità dei promotori. Ma la burocrazia che affligge le organizzazioni dovrebbe essere semplificata e questo, ha detto Dentesano, spetta alla politica. Altrimenti presto ci troveremo senza giovani che portino avanti i progetti, spaventati dalle responsabilità che li aspettano. Gli eventi collaterali inizieranno venerdì 20 aprile alle 18, con una serata di degustazione con prodotti col diretti all'Enoteca di Cormons e proseguiranno sabato con visite guidate alle aziende agricole, alla Cantina Produttori, mentre dalle 17.30 alle 19.30, nella Sala Civica del Comune di Cormons, degustazione con prodotti agroalimentari acqua elaborati dallo chef Paolo Zoppolatti. Alle 16 prenderà il via il mini-trial trofeo Lorenzo Tulisso di 8,3 km, valido quale quarta prova di Coppa Friuli e Coppa Gorizia. Domenica l'Ecomaratona scatterà alle 8.30, il trial del Collio alle 9, assieme alla camminata ludico-motoria. Pasta party a partire dalle 11 e a seguire le premiazioni della camminata, mentre la cerimonia ufficiale delle premiazioni per il trial e l'Ecomaratona sono previste a partire dalle ore 14. Intanto in piazza Mercatini, con prodotti acqua e col diretti, terranno banco per tutta la giornata, offrendo a ospiti esportivi un interessante balcone sulle peculiarità uniche dei nostri prodotti. Wine Bus, con visite guidate alle aziende agricole, degustazioni alle cantine a produttori e altre iniziative, completeranno il quadro. Al termine della conferenza stampa non poteva mancare il tradizionale rinfresco con brindisi augurale per benedire questa edizione dell'Ecomaratona. La parola ora passa agli atleti, che renderanno indimenticabile un'avventura che si consumerà in uno scenario incantevole. Il territorio del Collio Brda, infatti, ha presentato la candidatura per diventare patrimonio dell'UNESCO, progetto molto ambiziosio nel quale anche le Città del Vino e l'Ecomaratona, potranno fare la loro parte e a loro a fuoco alle polveri e si va a incominciare. Rimanendo in tema di trail, si è corsa a Bordano la quarta edizione del Trail delle Farfalle di 21 chilometri e 1900 metri di dislivello con l'organizzazione del Team Sky Friul di Ivan Serafini e vittorie griffate da nomi prestigiosi della disciplina, come Nicola Giovannelli, Team La Sportiva, in 2 ore 35 e 28 e Cristiana Folador Aldomoro Paluzza in 3 ore 21 e 6, che è tra l'altro risultata non assoluta. Al secondo posto tra i maschi Giacomo Iaiza, Cus Udine in 2 ore 58 e 48 e al terzo Mirko Lazzara Aldomoro in 3 ore 1 minuto e 24. Tra le donne al secondo posto si è classificata la compagna di team della vincitrice, Giulia Della Zonca in 3 ore 36 e 23 e al terzo Anna Grimaldi. Nell'ecotrail di 14 chilometri e 950 metri di dislivello il più veloce è stato Micael Galassi della Team Aucleulis in 1 ora 28 e 32 che si è sbarazzato agevolmente di Patrick Merluzzi Aldomoro secondo in 1 ora 36 e 28 e di Stefano Maier Team Aucleulis terzo in 1 ora 36 e 34. Nel settore rosa si è affermata la slovena Anacufer in 1 ora 51 e 32 che ha avuto ragione di Paola Romanin Aldomoro che ha concluso in 1 ora 57 e 51. Terza posizione per Caterina Bellina anche lei dell'Aldomoro in 2 ore 4 minuti e 55 secondi. Gianfranco Grisonic della Trieste Atletica vince alla Treviso Marathon il titolo italiano master di maratona degli SM60 con il compagno di squadra Fulvio Giurco in terza posizione secondo negli SM50 Gianni Panfili del GP Livenza Sacile. Bene anche le donne con Lorena Giurissa del Pool Sport Trieste seconda nella SF50 e Italia dalla Torre della Apicilia La Tisana terza nella SF45. La presentazione dei corsi di corse edizione 2018 organizzati dalla Maratonina Udinese per il diciottesimo anno consecutivo ha avuto luogo sabato presso i negozi arteni Inter Sport di Tavagnacco. Dopo il saluto del presidente del Sondalizio dottor Paolo Bordon Andrea Ceschia della segreteria organizzativa ha illustrato le modalità di iscrizione ai corsi e le giornate di allenamento che si svolgeranno al parco del Cormoro ogni martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20 a partire da giovedì 3 maggio. Bisogna presentare il certificato medico per attività sportiva atletica leggera indispensabile per l'iscrizione ai corsi che sono aperti a tutti coloro che intendono approcciarsi in modo corretto alla corsa ma anche a chi mira a traguardi più ambiziosi o ad altri il cui unico obiettivo è quello di curare il proprio benessere fisico. Insomma corsi a 360 gradi condotti da un pool di tecnici preparati Mario Budulic Edi Spelat Sandra Candelotto e Carlo Spinelli tutti con trascorsi agonistici di un certo livello. Collaboreranno con loro Andrea Ceschia Manuel Burello Riccardo Assarri e Filippo Marzin mentre il coordinatore dei corsi sarà Venanzio Ortis campione europeo dei 5.000 metri a Praga 78 per iscriversi basta telefonare alla Maratonina di Udine 0432 50 16 12 dalle 9.30 alle 12 oppure presentarsi direttamente al Parco del Cormor nelle serate di allenamento ed era questa l'ultima notizia di questa puntata grazie per il fedele cortese ascolto buon proseguimento di serata Ajam 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 Grazie.